I Presidenti mi scuseranno se oggi non do loro la precedenza. Inizio con il Commissario Tecnico Roberto Mancini, con il Capitano Giorgio Chiellini, Matteo Berettini e Vincenzo Santopadre, Dalia Caddari, Gaia Sabatini, Simone Barontini, Andrea Dallavalle e Alessandro Sibilio e tutti gli atleti qui presenti insieme agli allenatori. Presidente Malagò, Presidente Gravina, Presidente Binaghi, Segretario Generale Landi. Un saluto collettivo da me, un ringraziamento profondo dal Governo che è qui rappresentato in gran parte oggi pomeriggio e anche un ringraziamento da tutto lo staff di Palazzo Chigi che ha affacciato le finestre qui e vi guarda da sopra. Vorrei ringraziarvi perché i vostri successi sono stati straordinari. Straordinari in che senso? La Nazionale di Calcio ha vinto il campionato europeo dopo oltre 50 anni. Matteo Berrettini è stato il primo italiano a giocare la finale del torneo singolare di Wimbledon in quasi, come ha detto il Presidente Binaghi un attimo fa, un secolo e mezzo di storia. E la squadra Under-23 di atletica leggera si è classificata al primo posto nel medagliere agli europei, l'unica volta in 13 edizioni. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre, ma questa volta noi abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie. E quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione, in nome anche dell'Italia. Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Ogni generazione e i suoi ricordi. La Coppa Davis del 1976. L'urlo di Marco Tardelli nella finale dell'82. Il record del mondo a Città del Messico di Piero Mennea sui 200 metri piani. Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, che vincono sui campi del Roland Garros e di Flashy Meadows. I secondi posti della Nazionale di Calcio ai mondiali del 1994 e agli europei del 2000, fino al trionfo nella notte di Berlino. Oggi siete voi a essere entrati nella storia. Con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri golle, i vostri parate. Con lo spirito di squadra e il gioco di squadra forgiati dal commissario tecnico Roberto Mancini, con i vostri sforzi, i vostri sacrifici. Penso tra l'altro alle lacrime di Leonardo Spinazzola. Un grande applauso. E non sono qui, ma voglio ringraziare tutte le vostre famiglie che vi hanno sostenuto. Si parlava prima della famiglia di Matteo, ma tutti voi avete una famiglia che vi ha sostenuto, vi ha incoraggiato, è stata paziente. Tutti noi abbiamo avuto questa famiglia, ma nel caso vostro devono essere state molto più pazienti. Quindi brave mogli, brave famiglie e bravi nonni anche. Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all'Italia e ci avete messo al centro dell'Europa, come dimostrano i tanti messaggi di congratulazioni arrivati in queste ore, anche a me personalmente. Lo sport insegna, unisce, fa sognare. È un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo, è uno strumento di coesione, soprattutto in periodi difficili come quello che abbiamo vissuto. Il Governo ha deciso di investire nell'attività sportiva, molto, specialmente anche, direi, soprattutto quella per i più giovani. E per questo, e anche nelle scuole, per questo voglio ringraziare la sottosegretaria Vezzali, che ha fatto molto per dirigere l'investimento anche in questo settore. Ma vogliamo anche aiutare la prossima generazione di campioni. Come diceva il Presidente Binaghi, beh, nel tennis c'è molto. Già, occorre coltivare. Quella che cresce oggi vede in voi il proprio modello. Voi siete dei modelli. Beh, pensavo per generazioni, ma siete dei modelli anche per noi. Concludo facendo i più sentiti auguri a tutti gli atleti e le atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia vi accompagna nella vostra rincorsa verso la gloria delle Olimpiadi. Abbiamo tanta voglia di vivere altre notti magiche, come quelle che abbiamo vissuto in questi giorni, soprattutto naturalmente anche ieri. Grazie.